E' una sfida che potrebbe dare una svolta definitiva al campionato degli azzurri, un'autentica prova del 9 insomma. Cittadella Pavia, il posticipo in programma lunedì sera, non è soltanto un big match per la levatura tecnica delle due squadre in campo, ma rappresenta anche un crocevia fondamentale per le ambizioni del sodalizio di Vialzai in questa stagione. La sticella si sa è molto alta, e in settimane il presidente Xiaodong Zhu ha ribadito la ferma volontà di portare la società azzurra in Serie B, ragion per cui un piazzamento nel play-off è il minimo che ci si possa attendere a fine campionato. Non si spiegherebbero altrimenti gli importanti investimenti effettuati nel mercato di gennaio dallo staff dirigenziale Pavese. Non solo, un risultato positivo al tombolato servirebbe come ulteriore iniezione di fiducia per una compagine che ha mostrato qualche segnale di crescita nella recente vittoria ottenuta a spese del Cuneo. Il tecnico Brini dovrebbe proporre nell'undici titolare, facchin fra i pali, la linea difensiva 4 composta da Ghiringhelli, siniscalchi in ballottaggio fino all'ultimo con Malomo, Dermacu e Foglio. A centrocampo non è invece da escludere il debutto del maltese Muscat, che potrebbe essere preferito a Pirrone per affiancare Alessandro Marchi. Dietro al rientrante Sforzini, probabile l'impiego a destra di Goerbaz, Cesarini ad agire come trequartista e Azzi sulla corsia Mancina. Con quest'ultimo ho chiamato a far impiangere ai Veneti il mancato riscatto al termine della stagione 2013-2014. Il Cittadella è in stato di grazia dall'inizio del campionato e in casa ha costruito un vero e proprio fortino quasi sempre invalicabile per ogni squadra avversaria. Una vittoria sugli azzurri renderebbe quasi sul velluto la corsa per la promozione in Serie B ai Veneti. Mister Venturato adotta un 3-5-2 che spesso però trasforma in un più offensivo 4-3-3. I padroni di casa dovranno però fare i conti con alcune essenze pesanti, specie in difesa, dove non saranno della sfida gli infortunati Donazzane Pascali. Mentre a centrocampo mancheranno Bob, che all'andata segnò la prima rete dell'incontro, è Paolo Lucci. Gli ingredienti per assistere ad un grande spettacolo sul campo ci sono tutti. È sempre una gara stimolante contro una squadra che sta facendo cose importanti, perciò è un confronto dove noi dobbiamo sicuramente tirare fuori il massimo. Credo che questa sia una consapevolezza che i ragazzi hanno, perciò sono tranquillo da questo punto di vista. Non è facile vincere, però io credo che ci siano anche partite da qua alla fine che diano poi dei responsi magari positivi. Ma di là della gara di lunedì sera, noi abbiamo trapreso un cammino e dobbiamo portarlo avanti. La continuità di risultati è fondamentale in questo campionato. Perciò è chiaro che fare il risultato pieno in una gara come questa creerebbe entusiasmo, creerebbe anche consapevolezza ancora di più nei propri mezzi.